Anticipazione Uomini e Donne del 7 aprile 2022, bufera su Armando un corteggiatore di Nicole Santinelli si è eliminato. Sono terminate poco fa le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Il fortunato dating show di Maria De Filippi inonda tutti i pomeriggi su Canale 5. Ecco cos'è avvenuto durante il trono classico, secondo quanto trappelato dalla nostra talpa. Nel trono over di Uomini e Donne invece tutti contro Armando incarnato. Di seguito ecco le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Iniziamo da quelle che riguardano il trono over. Aimei, 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 n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu s-o sta. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duc tot mai sus. Aimei, 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 a